ciao oggi faremo un video bellissimo faremo un ninja warrior in buca abbiamo preparato tanti tappeti abbiamo preparato il percorso ci divideremo in due squadre e vinca il più veloce le squadre già di emma te li ferma però che ti vedo ferma lì non ti vedo più non ti vedo più passo avanti ok letizia faddy erika ok irene qua ok adesso rimangono camilla e marty cosa dici emma marty e camilla vai va bene sono d'accordo c'è rimasta male volevi essere quella emma cami ma stai scherzando ma secondo me ci è rimasta male ok va bene andiamo a vedere il bellissimo percorso che avete studiato ecco il bellissimo percorso quindi si parte da in fondo dalla parallela si salta sul tappeto rosso poi c'è un altro tappeto blu quadrato sotto la sbarra si rimbalzerà sul tappeto arancione poi c'è un altro a il track si va sul tappeto rosso un saltone su questo tappeto e e chi tocca prima al muro vince chi inizia perché hai detto mammina perché hai detto mammina ah ok avete vinta hai vinta invece giadi quindi parte la squadra di emma andate in fondo emma e giada c'è un problema allora ma se una cade in buca torna indietro e ricomincia proviamo facciamo un tentativo se una sbaglia torna indietro e ricomincia ok va bene se una sbaglia torna indietro e ricomincia sei pronta Irene sei emozionata quando vuoi tornareva guardata guardata guardate guarda bravo guardate 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 bravissima, vai Marti brava, vai Marti scappa, tu torna indietro, torna indietro Marti vai, raddrizzatelo bene vai, via, sposatevi dai Marti, vai, vai, vai vai Marti parti Emma ma io non l'avevo più fatto siamo in nome è così impari, ti avevo detto ma no, io non mi sono provati solo a un'altra stop tempo un minuto e diciannove un minuto e diciannove, secondo me sono state velocissime pensavo di più mamma mia, un minuto e diciannove, va bene ci siamo ecco, pronta Letizia la squadra di Giada la prima squadra ha fatto un minuto e diciannove sei pronta? appena parte vai dai 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 bravissimi 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 dai dammi ma ti stai dentro da in fondo daieri 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 come manchi forza credi in te daieri 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 di tornare indietro corri daieri forza edita è buono vai edita vai edita vai edita vai edita brava vai edita vai edita vai edita vai edita vai edita vai edita stop tempo un minuto e 33 mi dispiace avete perso e certo si fa tre volte quindi adesso siete uno a uno no uno uno a zero uno a zero via seconda volta allora seconda manche è impostazione ancora Irene quando è ovvio che se vincono anche questa la squadra di Emma mi dispiace ragazze ma la terza volta non si fa ok quando vuoi un minuto e troppo non si fa un minuto e troppo non si fa un minuto e troppo non si fa ma fate un po' di tifo allora dov'è la squadra della Emma parti attenzione Martina che ha avuto qualche problemino prima questa volta è stata velocissima attenzione dai dai Emma dai si si quanto un minuto e 10 vi siete siete migliorate ma com'è possibile è stata lentissima sto giro siamo migliorate eh prima ho fatto più detto possibile anch'io ma perchè vuoi perdere si per farlo l'incontrario ahahahah non ci credo ci siamo qualcuno prende il cronometro attenzione che parte Erika a questa volta l'avete fatto andare prima si un saluto proprio hai capito perché è torto e ormai ON shaped ce la fa via ed n velocissima grande stop quanta? 55 secondi 55 secondi velocissime terza manche allora per rendere un po' più bella adesso siamo 1 a 1 quindi per rendere un po' più bella la sfida mettiamo in palio qualcosa va bene allora stasera dopo il sushi chi perde paga il gelato a quelli dell'altra squadra pronte? pronte? quando volete via bravissima 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 vai Satina bravissima 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 Dai, dai, dai! Dai, vado a vincere! Dai Vado che vincite! Emma va che vinci! Vai Emma vai! Vai Emma! Stop! Tempo? 51 e 47 Mamma che tempo! ragazze ce la potete fare già da forza ci siamo forza ragazze 51 da battere dei missili dai ragazzi che ce la fate vai che ce la fate vai che ce la vai vai gianni vince la squadra di gianni speriamo che questo video vi sia piaciuto a me tantissimo se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e attivate la campanella ciao ciao e il gelato lo dovete pagare voi ragazze